Ciao e bentornati in questo nuovissimo video di Glacierstein Oggi siamo qui e anzi innanzitutto direi subito di spegnere gli impianti di risalita Allora, nello scorso episodio che ho visto che è anche piaciuto molto Abbiamo innevato le due piste qui sotto, appunto la 7B e la pista 8 Così poi nel prossimo episodio potremo aprire l'asseggio via Gobette Adesso invece andremo finalmente ad innevare la pista 1A Perfetto, adesso con il gatto dai nevi prendo e iniziamo a spianare i mucchi Allora, la situazione non è così male perché di neve un pochettino ce n'è già di naturale lati Mentre qua al centro non è così tanta Però guardando così con i cannoni dovrei riuscire più o meno a spingerla via senza troppi problemi Facendo un po' di mucchi e spingendola ai lati penso di riuscire a cavarmela Quindi adesso... Allora, la situazione non è così male perché di neve un po' di mucchi e spingendola ai lati penso di riuscire a cavarmela Grazie a tutti! Perfetto, la situazione non è sempre più o meno a spingendola ai quarti situazioni di riuscire a causa del contesto.. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.